Bene ragazzi, bentornati su Padel Network. Oggi ci troviamo al campo esterno della Y-Sport di Cassino e siamo qui per portarvi un nuovo video. Il video riguarderà il servizio. Vi daremo dei semplici consigli per effettuare un servizio vincente. Il servizio ci è stato richiesto da molti su Instagram e quindi siamo qui per accontentarvi. A proposito vi ricordiamo che se non lo fate già di andarci a seguire su Instagram che abbiamo aperto da poco, di lasciare un mi piace a questo video, un commento, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale. Bene ragazzi, passiamo al video. Andiamo! Prima di analizzare dove è meglio giocare il servizio, che velocità giocarlo, vediamo un attimo qualche appunto tecnico su come si esegue il colpo, come ci si posiziona, dove bisogna colpire la palla e così via. Innanzitutto l'impugnatura, fondamentale specificare che possiamo eseguire il servizio con diverse impugnature, ma quella che ci sentiamo di consigliare è l'impugnatura classica che utilizziamo con praticamente il 90% dei colpi nel paddle, che è l'impugnatura continental o a martello. Successivamente la posizione delle gambe, come in qualsiasi colpo, è fondamentale. Noi consigliamo di assumere una posizione semi-open simile a quella della bandeca. Se non avete visto il video ve lo lasciamo in descrizione. Una posizione comunque semi-open con le gambe leggermente divaricate e il braccio che mantiene la racchetta, nel mio caso il braccio destro, lo portiamo dietro e cerchiamo di tenere il gomito molto alto. Questo ci aiuterà in fase di impatto a generare un backspin sulla pallina. A proposito di impatto, dove è meglio colpire la palla? Innanzitutto è indicato lasciarla cadere davanti a noi, quindi noi guardiamo le punte dei piedi e lasciamo cadere la palla con il braccio in massima estinzione in mezzo ai due piedi e successivamente cerchiamo di colpirla nel punto più alto consentito dal regolamento. Il regolamento che cosa dice? Che possiamo colpirla massimo all'altezza della vita, quindi noi cerchiamo di colpirla quanto più vicina alla vita possibile. Per il semplice fatto che riusciremo a dare più angolo alla palla se appunto la colpiamo in un punto di impatto più alto. È importante anche colpirla avanti, quindi partiamo con l'impugnatura continental, gambe leggermente divaricate, posizione semi open, braccio destro nel mio caso che va indietro e gomito molto alto. Lasciamo cadere la palina avanti tra due piedi e colpiamo al punto più vicino alla vita possibile, avanti. Ultimo piccolo indizio, piccolo consiglio è così come avevamo visto nel video delle polè che dovevamo generare una velocità maggiore con l'inerzia del nostro corpo, per il servizio vale la stessa identica cosa, quindi dopo averla colpita avanti facciamo una breve torsione con la gamba destra, nel mio caso che sono distorso, con la gamba destra per cercate di generare un'inerzia per dare più velocità alla pallina. Bene ragazzi, siamo qui con la tattica del servizio, il dove giocarlo e a che velocità giocarlo. Prima cosa da prendere in considerazione è l'avversario che troviamo di fronte. Se è un avversario che ha particolari difficoltà a giocare un servizio dal vetro, allora noi punteremo ad una palla diretta verso il vetro. Se invece è un avversario che ha particolari difficoltà sul rovescio, allora noi indirizzeremo il nostro servizio verso il centro. Cerchiamo di sfruttare queste piccole debolezze del nostro avversario. Ricordiamo inoltre che il servizio ha il particolare fondamentale di far muovere l'avversario. Quindi cerchiamo di costruire un buon punto già dall'inizio. Se siamo giocatori che hanno delle difficoltà a salire velocemente sotto rete, allora sceglieremo un servizio più lento in modo poi da arrivare sotto rete in maniera molto pronta e giocare la prossima volée. Bene ragazzi, adesso vi mostreremo una piccola introduzione per i due stili di gioco, all'italiana e all'australiana. Vediamo insieme le differenze. Nel servizio all'australiana, al contrario del servizio all'italiana, il compagno di chi serve mantiene sempre la stessa posizione a rete. Il giocatore di destra, per esempio, mentre il suo compagno serve rimarrà sempre a destra, mentre il compagno, dopo aver servito, occuperà sempre lo spazio a sinistra. Il principale vantaggio di questo stile di gioco è che vengono mantenute le posizioni originali di entrambi i giocatori, così che i giocatori si sentano maggiormente a loro agio. Un piccolo svantaggio è che ogni due battute chi serve si troverà costretto a coprire una porzione di campo più ampia per poter raggiungere la rete. Per questo consigliamo di giocare un servizio più lento e meno aggressivo, in modo da raggiungere la posizione di a rete più agevolmente. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Se il video vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace ed un commento. Noi siamo super disponibili e rispondiamo a tutti quanti. Esattamente, quindi anche tramite mail potete contattarci o vi ricordiamo la pagina Instagram. Inoltre vi lasciamo in descrizione i link a Goricia Padel, se volete acquistare materiale tecnico di abbigliamento da Padel totalmente personalizzabile, e il sito Play Padel Store, che è il nostro sito di vendita di prodotti di fiducia. Tramite il codice sconto Padel Network 2021 avrete anche un 5% in meno su tutti i prodotti che trovate sul sito. Beh ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. A domenica.